bella, si siamo tornati con un nuovo episodio di GTA, un intro un po' strana e niente, questo episodio sarà totale non sapere cosa fare fare qualcosa, facciamo vedere la prima persona mamma mia, non l'avete mai vista su youtube la prima persona i video non sono affatti così perciò ve lo facciamo vedere noi cosa innovativa comunque no, oggi facciamo un po' di cazzeggio perchè è un po' la puntata a zero, perchè cosa volevamo fare voi qua sotto ci consigliaste cosa volevamo fare, magari facciamo degli episodi dove voi ci avete consigliato cosa fare, quindi che ne so, ogni episodio che facciamo questa è una cosa che si fa molto nelle live su GTA però, dato che io non ho ancora la fibra ottica anche se sto chiamando insistentemente il mio operatore per farmela mettere, ma purtroppo non decido io, quindi anche se non ho la fibra ottica e vorrei fare delle live noi possiamo fare della specie di non live ma che cazzo ma che cazzo possiamo fare delle non live in cui facciamo quello che voi ci dite insomma voi qua sotto ci scrivete fate questo fate quest'altro fate gli aguti fate questo fate quell'altro e noi lo faremo quindi ogni video faremo quello che ci dite voi facciamo una vittoria da sette sconfitte per lui incredibile le porte ma io credo che arrivo sempre secondo lo scusone per cosa sono da solo io mamma mia la venta d'oro la borghia vendola e cerchia di diritti a indire che la mia voglio dire che il fatto è che non voglio fare non ho un pezzo un pezzo si fa un pezzo bambini guardate come va incredibile dare come mai come mai ecco tutto oddio oddio tra Katie cammная carica castlot marzo mamma mia ragazzo proprio ecco lo ripreso eh si si lo ripreso ragazzi ma sei terzo lo sai si non so terzo ci sta uno che ha fatto peggio di te mamma mia che controllo ecco eh diciamo di 6 secondi adesso sto secondo 6 secondi muta come fai eri secondo una volta come ha fatto 2 ore e quarto però può recuperare hanno finito ma come si è arrivato quarto è finita la gara uiuuuu buuuuu giumpalo pam preciso eh si è stato un buon risultato per far vedere un po' il circuito perchè se andavo troppo veloce non lo vedevate bene quindi avrei visto che il circuito come è eeeeh e niente andiamo a fare una lavina ora vai zio vai zio vai zio non si può più entrare in grado vai la lunga la cassa vivo vieni qua vieni qua vieni qua no no noi lo esploriamo no no così ti da più di apri la cassa di boh di apri la cassa di su di me spiegati però apri la cassa c'è tre stelle ah eh sì scusa eeeh dossa a cassa vai vai zio ma come del cappello sto stronzo dai movite dai modi si è spaccato cascata velocemente comunque ti aspettare perché c'è la prima diere c'è la cassa la grande c'è la cassa grazie eeeh non c'abbiamo macchina bene pensi che culo pure veloce dai corri zio eeeh eeeh tu merda mbe porca torna corri 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 c'è una rapina che cosa ci sta costando veloce come il vento tu cazzo stanna oddio oddio incontrollabile cazzo mamma mia eh la guida in prima versione è abbastanza tosta eeeh zig zag oh che cazzo è successo tu qui pensi che stai cascata dentro la cosa della censura aiuto 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 oh cazzo mamma mia mamma mia aiuto 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 mamma mia aiuto aiuto oddio 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 stonare st oh ma le volevo un po' cazzo cazzo ma hanno bucate le rote ma hanno bucate le rote merda cambia macchina che cazzo fa no è figo oh che cazzo fai levati entra dentro ma no a modo più una cosa più bella che c'è modo forza per forza oh incredibile impennata incredibile troppo figo mamma mia con la barba fatta la giacchia fatta la giacchia fatta amma mia che guidatore ragazzi uno quale guidatore non so perché non si è buono eh eh dillo facciamo che noi siamo tipo le casalinghe che eh vogliono andare a fare la spesa ma si sbagliano strada e si ritrovano a forza un culo quando eh la travagli un porno sui porti il portone il quindi in linea stava chiusa stava chiusa stava chiusa aspettate come stai chiusa guarda il messo questo stavola stava morta stava chiusa anche hell stava chiusa ok non i tuoi cioè davvero bravo il romano un'altra parte a destra mamma il pelato muore incredibile terminato proprio boom ciao belli boom oh sono collega boom oh ciao ma neanche mamma camorra mamma mia che guidatore miglior guido è arabo una birra p pulgoncini guarda 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 ma non mi ha mai 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 essere e quindi se poco 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 io ho lo cazzo san mano ma non si è andata per me per te tata tata a la parte della per te stati finita la spiaggia con la domanda la domanda l'idea la strada o non c'è la carta non è un'altra ore aumento di rango di mamma mia che la fa tana per lui il museo oltretutto abbiamo la macchina da urizia per caso se il fatto non vogliamo nostra madre e' un grande peso balla I wanna a tubo for you I have a job for you Oh, cambia macchina no? No, sono poliziotto io Ah, molto agab I have an opportunity, you may be interested I have a cosa for you I have a cosa for you Basta, basta Lo cazzo sta andando, non sai che è chiuso qua? Basta Mi sa che sta per morire Sta per morire, è morto Niente macchina per Simion E direi che per questo episodio Di GTA in prima persona doveva essere Questo altro, più che altro non sapevamo più che cazzo fa Voi scriveteci intanto cosa volete vedere Che facciamo noi col gioco Quindi, che so, fate questo, fate quest'altro Buttate quel paracadute dal cielo Giustamente perchè dalla terra non ci so buttare Comunque, vi scrivete qua sotto cosa volete vedere nel prossimo episodio Noi faremo tutte le cose che ci ritevoli Ci vediamo al prossimo episodio 2500 like per far continuare GTA su questo canale Bella Bella